Ina, che succede? Perché tutto sto baccano? Non so, diteci voi. Perché ci avete portato qua? Quanto ci restiamo? Non ci avete detto niente? Ci prendete e ci spostate come fossimo dei pupazzi. Eh vabbè, ma siamo al mare, eh? Non è che mica... che stiamo lavorando. Divertiti, vai sulla spiaggia, gioca, andiamo al mare. Ma non mi va, non manco me l'hai chiesto. D'andar al mare? Perché non va bene, te lo devo chiedere. Sì, va bene, non mi va bene. Ma perché ci chiedete mai qualcosa a noi? La verità è che mi interessa soltanto di voi. Pensate solo ai fatti vostri voi. E a fare un altro figlio, no? Ma che cavolo dici? Ma la senti? A fare un altro figlio. Ma chi te l'ha messa in testa sta cosa? E allora perché mamma è incinta? No. Ah, Dio. No. Ma non ti preoccupare, tanto... Tanto ho già deciso, quindi... Quanto è che sei incinta? Due mesi. Due mesi? Due mesi. Due mesi. E perché io non so niente? Perché non sai niente? Non lo so, lo sto chiedendo a te perché non so niente, la bambina lo sa. Tu perché lo sai? Perché ero con lei. Dove eri con lei? Ti rendi conto che era con me? Dove? Lei era con me. Tu non eri con me. Perché non lo sai? Dove era con te la bambina? Dove? Dove era? Dove era? Dal ginecologo. Dove era? Secondo te dove era? Eh? Si è portata pure i bambini dal ginecologo. Cosa dovevo fare? Ma ti rendi conto che tu non ci sei mai? Ti rendi conto o no? Cosa dovevo fare? Dimmelo. Dimmelo. Cosa dovevo fare? Mi devi avvisare tutta sta cosa ancora per la storia della casa, vero? Tesoro mio. Tesoro mio. Ma come facciamo? Come facciamo? Me lo spieghi? Come facciamo? Come abbiamo... Ma ti rendi conto che parliamo così davanti a nostra figlia? Ah beh. A diavolo sei tu che adesso mi fai notare sta cosa? Me lo dicevi e ne parlavamo io e te. Invece no. Me l'ha detto lei. Tu mi dimmi a dire a me sta cosa. Veramente. Io non so più cosa devo fare con te. Non so più cosa... Io te lo giuro, te lo giuro. Vorrei con tutto il mio cuore poter trovare una soluzione per stare ancora qui con te e fare altri figli. Ma non ce la faccio. Come faccio? Me lo spieghi come faccio? Ti prego, dimmelo. Come faccio? Che significa che hai deciso? Come cosa si... Molla sta roba, dimmi che significa che hai deciso. Devo dirlo qua? No. Vuol dire che non... No! Non ce lo possiamo permettere di avere un altro bambino. Ecco cosa significa. E chi l'ha detto questo? Ancora per la casa questo, vero? Ma certo. Per la casa, perché non ci sei mai, perché sarebbe tanto bello vivere di quei momenti in cui ridiamo, stiamo insieme. Ma sono troppo pochi. Capisci che sono troppo pochi? Io non posso basare la vita dei miei figli su questo. Sì, ma in vacanza adesso vi ci ho portato io. La casa comunque era mia, non era nostra. Ah, non era nostra. Chi ci viveva? Noi. Eh, quindi di chi era? La usavamo tutti. C'hai ragione. Quindi, con tutto l'amore, veramente, come faccio? Dimmi, dimmi anche solo una cosa. Dimmi una cosa, per favore. Dammi una ragione. Dammi una ragione. Una vera. Una. Che ci amiamo? Chiamiamo i bambini. Qui adesso ci calmiamo. Andiamo sulla spiaggia e poi ne parliamo io e te di questa storia, ok? Senza prendere decisioni affrettate. Con molta calma. Io sono dieci anni che sto qua perché ti amo. Perché ci amiamo. Ma non posso più, non posso più fare questa cosa qua. Per loro. Per un terzo. Ma ti rendi conto? Terzo. Un terzo figlio. Di amore. Di poesia. Certo, certo che ti amo, anche per questo, ma... Dai, non abbiamo un soldo. Li troviamo. Li trovo io. Dove? Non lo so, li trovo io. Vado al mercato, parlo con qualcuno, li trovo io. E quando c'era Nina? Perché non l'hai fatto? L'ho fatto pure per Nina. Per Nina? Sì. Sì? Sì. Ah, e poi i soldi dove finivano? Pensavo di farne altri. Vabbè, lasciamo perdere. Dai, Enzo, Dio mio, Dio mio, Enzo! Ma ti senti? Ti senti quando parli?